ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video siamo di nuovo su onkai star rail per le pool per il nuovo personaggio uno degli stellaron hunter cioè blade siamo qui oggi sul mio account il 50 e 50 come ben sapete se avete visto i video scorsi se no recuperateli l'ho perso quello per l'osha l'ho perso e quindi oggi sono qua a vendicarmi sperando di vincerlo ma la vedo male incrociamo le dita comunque vada sarà un successo perché non credevo di riuscire a pullarlo ma la mia community è meravigliosa e quando va detto va detto e niente io comunque vi invito a iscrivervi al canale per non perdervi tutti i video a tema star rail games in impact e tante altre belle cose e passate i live sul sito viola dove siamo anche in questo momento per assistere in diretta alle pullate quindi vi auguro buona visione e divertitevi con questo video ciao mentre queste due di riscaldamento ve le tiro velocemente queste sono proprio le riscaldamount vi darò il 50 e 50 quindi se vogliamo fare la scommessa se vinco o perdo il 50 e 50 la potete già fare ciao gassio quindi bene votate la scommessa votate 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 sbagliato andiamo su le pull e adesso ci prepariamo non so i pt dovremmo essere a pt bassissimo non so se l'ho preso in multi o addirittura con le singole non mi ricordo assolutamente dobbiamo controllare insieme non nemmeno riguardato perché non ero nemmeno pronta l'idea che lo pullavo oggi ok l'ho preso in molti infatti sono a pt 7 e tiriamo queste prime tre singole per andare a pt 10 tondo ok pt 8 dai blade torna a casa che se esci presto due multi su kafka le tiro due di numero perché poi tengo tutto per danenga però visto ci sono tutti gli eventi nuovi della pace magari un po di molti le tiro se mi esci subito blade ma subito subito e nintendo vuol dire da qui a questo pt ok questa è la 9 poi tiriamo la 10 e si va ok come armi non ve l'ho detto ma diciamo pt 10 refine di cose che mi piacciono refagno di cose che mi piacciono se se devo scegliere ok tre stelle perfetto siamo lineari pt 10 andiamo a pt 20 blade amore vienimi a casa veloce per favore almeno se ok ok Sì, sì, sì. Teniamo due multine qui per il gusto di tirarle e poi niente, ci si tiene, tra l'altro sono a pt10 se non sbaglio, no, pt14, due multine, si va a 34, arriva ptester e via. Due multine il sogno, let's go, arma di blade ti invoco. No raga no. No raga no. No, ma ora no. Esce quella di qualcun altro. Ma raga! Ma, 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 io andrei già. No, c'è chi ma vuoi, Riccardo, vieni qua a vincere. Ma! Bene, andiamo a 82. Ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Io non guardo. Spammateli, spammateli! Dimmi tu quando devo stare, quando devo cliccare e quando devo stare ferma perché io non guardo. Non stai guardando nulla? No, sto guardando i miei wafer. L'animazione è finita, siamo sulla prima singola della multi. Ma ora le stai guardando o ti devo dire io di andare? No, no, devi dirmi tu, io non vedo nulla. Ah, ok. Ok. Va bene, vai. Ma quando compare l'animazione fica ti devo dire apri gli occhi o aspetto che sia proprio comparso il 5 stelle? No, quando compare il 5 stelle. Ah, poi nemmeno l'animazione non sta zitta a piangere. Ok, va bene. Perfetto. Fammi stare tranquilla, va, tiro un sorso d'acqua perché probabilmente non mi sento male. Allora. Ok. Ok, vai. 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 Ancora. Vai. Apri gli occhi. Ah, non so. Il piantino. Ah, no. Il piantino. Sei pure a questa parte. Alleluia, maledetto. Aspetta, eh, che mi devi preparare. Non fare la musica del 5, eh. Non posso? No. Dai. Arrivavo perfetta per Kafka. Avevo un sacco di pilli. Cesso. Pasta! Ma tantissima. Un incubo. Oh. Adesso ti lascio uno scabuzzino. Claudia non lo sente, vuoi sì. Claudia non lo sente. No. 78. Eccolo. Eccolo. Che cosa vogliamo, Claudia? Velt. 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 Velt o Jancin. Velt o Jancin. È un coso, io giuro, urlo. Jancin. Sì. Oh, meno male, meno male. Perché Davide ha chiamato Velt, allora ci ha dovuto per forza dare quell'altro. No. Dai, Eliana. Portiamola a casa. Portiamola a casa. Che potrebbe essere anche la prima. Mamma mia, signor. 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 Signor, come dice una tipa che conosciamo. Signor. Una prosciuttina che conosciamo. Una prosciuttina. 76. Ok. 76. Sì. Musica. No, non quella. E' Blade, scusciami. Allora, 72. Ah, è vero se sei di Milano, Ali, quindi fai la fiscale, va bene. 303 è carino, dai, è palindromo. Ci sto. Lo accetto. Chiamate Blade, anche voi su TikTok. Spam in chat di Blade. 703 è un anticipo. E' un anticipo. Non ci credo. Non ci credo. E' il mio Diluc. E' il mio Diluc. No, Ali, sei segnata come me. Ali, sei segnata come me. Pifi, 80. Ed eccolo qua. Il simbolo che va a certificare il ventesimo personaggio nell'account di Alice. Mi raccomando, voi siete su TikTok, venite su Twitch, sto facendo dei giveaway, regalo dei codici da 60 Stellar Jade, qua su Star Rail. Però per iscrivervi dovete venire live su Twitch, non importa essere sub. Quindi correte su Twitch, lasciate un followino e iscrivetevi quando apro il giveaway. Ecco, questa è la presa per il culo definitiva, Ali, perché quest'arma qua, con scritto new, è l'arma per Gepard. Free to play. Il sabbione. Ed eccolo qua. Grazie per il rinforzo TikTok e balliamo di nuovo. E andiamo. Piti, 84. 5 stelle. Albi, intanto si sente così. 75. 76. Eccolo qua. E quindi lo perdo io il 50 e 50. Albi li vince tutti ragazzi, non c'è verso. Albi li vince tutti. Queste sono altre dieci sabb, Albi. E guardatelo i due mood di vita. Prima morto e poi salta. Questa è questa. Acce. E guardate. E guarda il confio. Capo giova. Lascia. E guardate. E poi. E guardate. E guardate. Gomma. E guardate.